Buongiorno, salve, io sono più o meno Lamberti e il 28 maggio del 2012 sono stata citata dal mio ex marito dopo aver subito 30 anni di violenze domestiche, avevo deciso di separarmi da lui, ma poi si sa come tutti gli uomini possessivi non accettano queste decisioni perché vengono colpite nella loro dignità, se qualche dignità ce l'abbiano. Oggi sono qui a portare il mio messaggio ai giovani perché io credo molto nei giovani, loro saranno il nostro futuro e saranno anche le coppie, i genitori del futuro e voglio sperare in loro per poter vivere una società più amorevole. Si sa la violenza è un fatto culturale, però questa cultura si può cambiare, mentre alle donne adulte che per forza di cosa a volte sono costrette a vivere la violenza domestica, dico sempre di avere il coraggio di scappare, di denunciare e soprattutto di non far vivere i propri figli la violenza assistita. Grazie.